Siamo ovviamente tenuti ad andare a fare prima di tutto una grande partita con una squadra sgorbutica, ma soprattutto cercare di portare a casa i punti importanti per la classifica. Come sta Balic e quanti minuti ha? Balic per la cronaca ha cominciato ad allenarsi con la squadra da martedì, quindi il come sta non lo possiamo misurare, però sicuramente è disponibile. Ma di Dio c'è? Di Dio c'è, convocato, stasettimana si è allenato, non ha avuto problemi e quindi anche lui è arruolabile. Mi sembra che di Dio è una società che non ha difficoltà a livello di classifica, però ha portato a casa un pareggio importante. Io non mi fido mai delle società in difficoltà, io guardo le squadre che andiamo a affrontare, che di problematiche in questi campionati ne hanno perlomeno il 50% a livello societario le squadre, però poi quando vai in campo proprio per questo motivo i ragazzi cercheranno di mettersi in mostra per poter avere anche l'opportunità di farsi mercato poi nel caso in cui qualcuno se volesse andare. Ricordati che nel calcio devi sempre fare per poi avere. E' ovvio che le società in difficoltà è come se dicessero i giocatori fate meglio possibile per poi andare da un'altra parte. Quindi se io fossi un giocatore della Civitanovese in questo momento cercherei di fare il meglio possibile per mettermi in mostra. E' una squadra si mette in mostra se fa prestazioni, se fa risultato. E non mi stupisco del fatto che abbia fatto risultato a Teramo con una squadra pure importante. E non mi stupisco perché all'interno della squadra ci sono degli elementi validi per la categoria e nel complesso è una squadra che anche in Coppa Italia quest'estate mi ha fatto una buona impressione. Che tra l'altro ci abbiamo perso. E avevano anche tassi davanti a loro? Hanno preso tassi nuovi, rientra la Spagna, c'hanno Padovani che è pure un buon giocatore, Diop, Capece, sono giocatori che comunque nella categoria hanno fatto buoni campionati. E' esposito. E' esposito. In Spagna qua c'è andato un attimo di spiegelato nel passato. Sono giocatori validissimi per la categoria, quindi io sono sicuramente in allerta perché quando ci sono queste partite sono quelle classiche partite che vanno affrontate alla giusta maniera perché, dico la verità, sono più preoccupato di Civitanova che della prestazione con la San Benedettese. Per assurdo però è così perché questo girone lo ha dimostrato e dobbiamo essere pronti e maturi soprattutto ad affrontare le insidie che questo campionato ci presenta. E domani è un'insidia. È un'insidia.